Beh, avete visto, insieme ce l'abbiamo fatta. L'avevamo già detto, i sogni non costano nulla, possono diventare realtà. Un gradino alla volta, con coraggio, forza, determinazione, tenacia, siamo stati davvero unici. E poi il vostro calore, il vostro sostegno, perché la gloriosa polisportiva 1932 l'avete nel sangue da una vita. Questi magici colori giallo e rosso, sì, sono proprio questi, i colori che fanno battere il nostro cuore. C'è un ultimo grande ostacolo da superare. Si chiama Villa Literno. Giocheremo in trasferta, non al Carrano, e avremo un unico risultato a disposizione, quello della vittoria. Con il vostro sostegno, con il vostro calore, possiamo davvero farcela. Uniti come sempre. Noi ci crediamo. E voi? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.